Sindaco Biasi, anche lei oggi a Genova per seguire l'evento del Presidente Totti, Vivaio Liguria. Lei ha vinto senza l'appoggio del modello eppure ha risposto a questo appello. Come mai? Sì, noi siamo una lista civica e rimarremo una lista civica. Sono qui come osservatore, perché nel momento in cui arriva un invito da parte di un organo, di un ente importante come la Regione, il Presidente Assessori, essendo noi neoeletti siamo venuti a ascoltare la progettualità dello sviluppo della Regione Liguria. Ovviamente non per demarcarci o per identificarci a favore contro qualcuno, ma perché quando amministri devi avere questa intelligenza di apertura mentale e soprattutto di ascoltare quali possono essere i vantaggi diretti per la nostra comunità.